E' ora veramente le quali la bibigia, se le proprie modi è il solito... Ma c'è i cori! E' meglio che la televisione del Cinque Stelle mi ha preso nel culo di quelli che l'hanno dato, perché qui si è rotto! Capito? 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 Capito! 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 Cosa siete bene? Cosa siete, faccio! Quanto abbiamo fatto il fatto il 6 manto, non ci proviamo da un'altra! Stanno facendo da sfilate! E non abbiamo fatto 500 km per far sfilare! E chi non batte le mani è Mario Draghi E chi non batte le mani è Mario Draghi